Leone Quella mattina mi svegliai molto presto, il sole non era ancora sorto, mi alzai dal letto, indossai al buio i vestiti che la sera prima avevo preparato sulle sedia, pantaloni blu, camicia azzurra, cravatta blu oltre mare in tinta con il colore dei miei occhi, cintura in pelle di Gucci, scarpe nere in pelle semilucide di rossetti, giacca blu. Controllai il portabagagli della mia auto per verificare che ci fosse tutto ciò di cui avevo bisogno, apri la valigia, vi riposi con cura quattro camicie bianche appena stirate come solo io so fare, neanche mia mamma stira come me. E già che c'ero ricontrollai meticolosamente il contenuto della valigia perché fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. 5 paia di slip bianchi in microfibra, 5 magliette bianche in puro cotone, 5 paia di calze lunghe, il calzino corto è bandito, non farei mai uno sbaglio del genere, 3 cravate, 3 paia di pantaloni ritirati ieri dalla tintoria sotto casa, due dei quali eleganti e uno casual per la sera. Il necessaire per la lasatura, deodorante, sapone, profumo, pettine, smacchiatore spray. C'era tutto considerando le camicie che stavo aggiungendo in quel momento. Chiusi il portabagagli della mia Peugeot Station Wagon e parti. Imboccai lato a strada del sole direzione Bologna. La strada era deserta a quell'ora, me la presi comoda. Mi fermai al primo autogrill a fare colazione con cornetto e caffè d'orzo. Mentre masticavo il dolce diede uno sguardo allo schermo del televisore, posizionato in alto, in un angolo del bar. Le immagini delle torri gemelle che bruciavano da un paio di giorni erano l'unica cosa che tutte le reti nazionali e locali trasmettevano ininterrottamente. L'ennesima vista dell'impatto del secondo aereo su una delle torri di New York mi chiuse lo stomaco. Posai il cornetto mezzo mangiato sul piattino, bevi il caffè e ripresi il viaggio. Arrivai a Bologna appena in tempo per l'apertura dei cancelli del parcheggio della fiera. Lasciai la macchina e con l'aiuto di un carrellino trasportai tutti gli strumenti fino al mio stand. All'interno del padiglione F non era ancora arrivato nessun espositore. Io fui il primo. Intorno a me c'era un esercito di operai che lavoravano a pieno ritmo. Elettricisti montavano le luci sui pannelli, altri gli stand, altri ancora levavano le coperture di plastica alla moquette blu e grigia appena srotolata a terra e fissata in qualche maniera con la pistola a sparachiodi al pavimento. Estrassi dal trolley un piccolo cencio bianco in lino e uno spray antibatterico per spolverare i mobili del mio stand e controllai che quello che avevo realmente ordinato nel modulo di iscrizione alla fiera fosse stato debitamente recapitato. Avevo persino ordinato una pianta, una felce, la più economica, tra quelle in vendita. Eh sì, perché quando si ordinano gli accessori in una fiera te li fanno pagare come l'oro, Maremma impestata ladra. Hanno voluto 82 euro per una felce da appoggiare sul tavolino per tutta la durata della manifestazione. Mi ero ripromesso che se la felce fosse morta prima della fine della fiera avrei preteso un rimborso. Sistemai con cura i miei strumenti sui vari supporti disponibili, li collegai all'impianto elettrico e li misi in funzione per sincerarmi che funzionassero a modo. Mentre accendevo e spegnevo tutti gli interruttori, lei mi passò davanti e la seguì con la coda dell'occhio fino al suo stand, che per fortuna quest'anno era proprio accanto al mio. Era il terzo anno di fila che partecipavo a quella fiera di Bologna e lei c'era anche gli anni precedenti. Ci conoscevamo di vista. Era giovanissima quando la incontrai la prima volta e ricordo che si agglindava i capelli biondi con delle piccole mollette tutte colorate, da adolescente. quest'anno invece mi sfilò accanto con un portamento diverso. Il lungo collo e la camminata sicura la facevano sembrare più alta di quanto non la ricordassi. Qualche ora più tardi l'altoparlante allunciò in più lingue l'inizio della fiera e i primi visitatori cominciarono a passeggiare lentamente con le mani dietro la schiena, a fermarsi davanti ai vari stand, ad avvicinare il naso ai diversi strumenti in funzione per poi distogliere subito l'attenzione e volteggiare verso un altro macchinario. Forse più interessante a scovare qualche stuzzichino da mangiare offerto dagli standisti che alla ricerca di nuovi affari. Osservavo sempre l'abbigliamento delle persone che mi passavano davanti e per ognuna immaginavo come potesse essere caratterialmente. Divertente o una palla al piede, ossessiva, logorroica. Ore più tardi si avvicinarono al mio stand diversi potenziali clienti e cominciai a illustrare loro il mio lavoro. Mentre parlavo mi sporgevo ripetutamente in avanti e guardavo verso destra per intravederla e intrattenere i visitatori. Dovetti fare uno sforzo sovrumano per concentrarmi su quello che dicevo perché quando posavo lo sguardo sulle sue labbra che si muovevano veloci, che si aprivano in un sorriso, dimenticavo quello che stavo dicendo e dovevo ricominciare da capo. verso l'una mi venne un certo appetito e decisi di passare dal bar ad acquistare un panino da mettere sotto i denti. Feci il giro largo e le passai davanti facendole un saluto con la mano. Finito il panino ritornai da lei e mi fermai al suo stand. Ma è morta la vecchia? le chiesi. La vecchia? Mi guardò allibita. Un mezzo sorriso le increspò le labbra. La tua titolare? C'era una vecchia agli altri anni che vi obbligava a indossare gli abiti tradizionali della vostra nazione. Ti vedo vestita normale quindi ipotizzo che sia morta la vecchia. Le spiegai. cambiato capo? Mi rispose mentre con un gesto naturale della mano si scostava i capelli dal volto. E meno male le dissi sembravate delle cameriere di una birreria vestita in quella maniera. oggi sei in vena di complimenti rispose lei con un italiano perfetto nonostante fosse austriaca. Veramente sono in vena di inviti. Sceniamo insieme domani sera? C'è un ristorantino in centro a Bologna che cucina la carne in maniera spettacolare. Prese il suo tempo per rispondere e poi disse ma sì grazie domani sera va bene. Allora siamo d'accordo? Per adesso ti saluto perché vedo gente davanti al mio stand e devo tornare a lavorare. Ci si rivede dopo ciao. Mi allontanai sentendomi addosso i suoi occhi che mi seguivano incuriositi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.